Musica Parlaci di CRIF Allora, CRIF, Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica è stato fondato da Antonio Cosentino e praticamente si occupa della Philosophy for Children for Community che è una metodologia nata in America negli anni Ottanta è stato Matthew Liebman che ha codificato il metodo della Philosophy for Children che promuove il pensiero critico lo sviluppo del pensiero critico e creativo e favorisce l'acquisizione delle regole democratiche del dialogo condiviso è una metodologia che è nata per appunto per promuovere nei bambini la discussione condivisa e ultimamente negli ultimi dieci anni viene applicata anche con gli adulti in tutti i vari settori che si possono pensare nelle comunità terapeutiche nel mondo del lavoro negli ospedali però con i bambini noi siamo presenti come CRIF nelle scuole come CRIF Cagliari è un'associazione nazionale che ha sedi locali dislocate in tutta Italia e noi come CRIF Cagliari siamo presenti nelle scuole con molti progetti ma anche nelle biblioteche in tutti i contesti socio-aggregativi dove ci sono bambini e ragazzi la filosofia parebbe qualcosa di estremamente distante dalla pratica e dalla vita quotidiana quanto invece la filosofia può essere utile? lo studio dei concetti o del dibattito della criticità può essere utile per i ragazzi per farli crescere anche in un mondo un po' più civile? si, si è abituati a pensare alla filosofia come qualcosa di molto distante da noi dalla maggior parte delle persone come qualcosa di cui si devono occupare solo i grandi studiosi che scrivono i libri in realtà la filosofia può diventare un habitus di vita è una metodologia studiare la filosofia provare a pensare in maniera filosofica provare a sviluppare la logica anche con i bambini può aiutare ad acquisire una modalità proprio di pensiero differente e quindi anche di partecipazione differente alla vita pubblica io dico sempre che lo scibile del pensiero umano sta nella testa di un bambino faccio questo lavoro da tanti anni e ho visto come anche con i bambini anche molto piccoli appena scolarizzati ma anche nella scuola dell'infanzia le domande che si pongono i bambini sono le stesse che si pongono gli adulti e sono le domande dell'uomo sulla vita su qualunque cosa che ci venga in mente sono proprio le stesse anzi la cosa meravigliosa è che i bambini hanno la capacità di mettersi in discussione di mettere in discussione le proprie certezze di provare a ragionare in maniera logica di farsi influenzare dal pensiero dell'altro per cui la cosa meravigliosa è proprio che viene fuori un pensiero che diventa che fluisce tra le varie persone e che si integra tra opinioni per cui è una cosa che favorisce veramente una convivenza democratica e i bambini sono i primi a mettersi in gioco e ad acquisire immediatamente la metodologia noi adulti siamo un po' più strutturati con gli adulti un po' più complesso provare a fare questo gioco del pensiero diciamo condiviso se qualcuno volesse collaborare con voi o avere dei vostri contatti allora noi siamo appunto presenti a Cagliari con la sezione Cagliari abbiamo proprio una non abbiamo ancora una sede stabile ci riuniamo per il momento a quarto ospiti di Arcoiris abbiamo però una c'è il sito che rimanda al sito nazionale filosofare.org esiste un percorso di formazione per diventare teacher expert di philosophy for children ci sono dei corsi a livello nazionale qualche volta facciamo anche corsi a livello regionale però nel caso siamo presenti qua al festival di filosofia con banchetto con brochure vi daremo tutti i riferimenti a livello 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 a livello